buongiorno allora anzitutto buona vigilia di natale e buona natale quindi approfitto per fare entrambe le cose ci si augura che almeno in questi due giorni voi pezzi di merda fate i bravi scherzo ovviamente ci si augura che siate più bravi più buoni anche se non dovete far finto che questo deve essere da imparatore per tutto l'anno ovviamente per il prossimo anno per fare buoni propositi finito l'anno la chiavica per avere il prossimo anno siate più buoni tutto questo hanno un forte abbraccio in particolare le persone che stanno vivendo un momento difficile ma hanno una mancanza una perda una perda da breve di persone care soffrono malattia vivono lutto questo e quell'altro che non hanno fogli di festeggiare natale questo è la mia grande solidarietà a loro un grande abbraccio e un bacio a loro ma diciamo ora la mia amica che ne ha vero bisogno di sostegno e di forza detto questo vi auguro buona serenità buon natale a tutti quanti buona vigilia poi per domani ci saremo gli auguri buon natale vediamo un po' detto questo buon natale a tutti